Amici benvenuti al nostro settimanale appuntamento. Iniziamo con una notizia un po' particolare, un po' quasi sul personale, diciamo così. Avete sentito, anche per le polemiche che qui nel territorio il provvedimento ha suscitato, che dal 1 giugno, in ottemperanza di una direttiva dell'Europa, ormai sapete che la stragrande maggioranza delle nostre leggi, norme, non sono altro che la traduzione, l'attuazione di direttive europee, ecco, dicevo, dal 1 giugno viene vietata la pesca sia dei bianchetti che dei rossetti in generale di tutti i pesciolini sotto una certa dimensione, più una certa distanza, diciamo, tutti questi aspetti. Ma quello che personalmente mi interessa un po' anche di questi tempi, per farci due sorrisi, è l'aspetto dei pesci piccolini, perché nella nostra riviera si pescano i bianchetti e i rossetti, ma nella riviera di Ponente, forse qualcuno lo sa, si pescano i cicciarelli, cioè esattamente come mi chiamo io, soprattutto a Noli è la capitale del cicciarello. Ecco, pensate quindi la mia gioia che dal 1 giugno potrò andare a fare i bagni anche nella riviera di Ponente senza il rischio di essere catturato, perché un cicciarelli che va a fare i bagni a Noli rischiava grosso, anche se sono leggermente più lungo di quei 4-5 centimetri della legge, però sapete com'è? Non si sa mai. Quindi nel quadro di queste norme europee personalmente ho accolto con gioia, così dal 2 giugno, che è anche il mio compleanno, potrò farmi un bagno a Noli senza rischio, tranquillo, sereno. L'ho detto tanto per farci un sorriso, però questo fatto può essere valutato in tanti modi. Da un lato che ormai ogni nazione dell'Europa ha una sovranità limitata, ecco noi abbiamo poco potere ormai proprio, gran parte delle leggi, dicevo, sono recepimenti, sono attuazioni di norme superiori dell'Europa e d'altra parte, vedete anche col caso della Grecia, l'Europa interviene, sì che aiuta, ma pone degli obblighi presto, ma in cambio devi fare questo, questo, questo e quindi la sovranità si riduce sempre di più degli stati e questa è l'altra faccia di uno stato federale, come più o meno sta diventando l'Europa.